Il caffè? Il caffè? Il caffè? Il caffè? Il caffè? Il caffè? Quindi il caffè? Sì, le stesse sono per le città. Il caffè? Il caffè? Il caffè? Il caffè? È finito ma quanto sia la nge. Questo è il caffè? Il caffè? Conxionano il caffè? È il caffè? È un bellissimo. Ci siamo Конечно, albケzzi ci sono più grande. Grazie a tutti.